a 10 di risultato tanti auguri auguri a tutti di un sereno natale buone feste vi auguro natale in sicurezza perché fare la festa non è il numero ma l'affetto delle persone più care buon natale che sia un natale sereno per tutti e tanti auguri da risoluto punto it risoluto è sempre con voi tanti auguri a un sereno natale che sia un anno pieno di amore pace salute e serenità buon natale e felice 2021 auguri a voi e ai vostri cari da tutta la redazione di risoluto grazie a tutti